e a benevento ci sono i lupi già si lavora se Lorenzo va piano non mi cade nemmeno il telefono e ovviamente con una mano adesso andiamo a fare due palle di neve perché che lei risulta non è pure il muovaccio ma dove la mettiamo? adesso guarda carica non ci vediamo avevo fatto delle palle di neve e qui si può vedere quanti sono stupidi i ragazzi qui si stava chiedendo già va passando e adesso ci vediamo il posteriore di una mercedes cl come potete vedere chi è fuori strada non cammina perché non sa che macchina a porta mi sa che devo mettere la cintura perché mi faccio lavoro ma giriamo? ma signale ti esageriamo dimmi il martini che non posso usare dimmi il martini mi sembra di un malquerico come si è in mezzo? non si è in mezzo? non si è in mezzo? non si è in mezzo? no 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 non si è in mezzo non si è in mezzo non si è in mezzo non c'è di più non c'è di più non c'è di più fate i bravi fate i bravi fate i bravi bello bello no no non c'è bene no no sì 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 il caosso è venuto a Palleria è la tendale, il caosso è venuto a Palleria pensai che può passare no no mamma mia qui siamo in un altro mondo qui siamo in Alaska come potete vedere non vi devo provare qui siamo in un mondo non mancate non è un mondo ma chi sa da salvare me sei pure se sei in queste mani mi hanno raccogliato e lui non ha raccogliato non mi metti mi dà a vincere mi metti mi dà a vincere guarda la faccia del cazzo qua non è che sta accadendo ma io non c'è la musica non c'è la musica e che c'è la musica? c'è la musica che impressionante veramente mi pare che non stiamo appena qui non c'è la musica non c'è la musica vieni a l'atastro e il compito il compito il compito non c'è la musica ... ... ... No vera bemmi di dover ... C'è la stessa macchina che è un gol C'è la stessa un pizzo di ghiaccio di cosa vengono C'è la stessa un pizzo di ghiaccio di cosa vengono No, non c'è la città C'è la città che c'è già non c'è passata C'è la città che c'è passata C'è la pinna che non c'è fino a mezzo c'è La polizia? Non ne vado a timidare la protesta Ma è fatta la città Non dicevano c'è il piede Vengono voi città Arrari Oh non lo vengono ожно lo scopo non lo vedi, ma è diventata cose che camminano no, deve mettere un rapporto più pesante deve mettere un rapporto più pesante prima perchè si diverte di più perchè va a scommendo, invece è possibile andare a vacanza guarda, buona macchina per il Q7 vengono io il Q7 è così, se non avessi i puntoni di neve così, per vedere se era tutta la vacanza io si camminavo tranquillo beh, vedi come poi è piccato ma la zappetta dell'ultimo anno è andato grazie io, per la squadra, per il Q7 è la vacanza e qui ci siamo fruttando ma questo non è fruttato, ma questo è il Q7, ma questo non è fruttato, ma questo è il Q7 ma questo è il Q7, ma questo è il Q7, non è fruttato a giudizia che c'è giù c'è giù che mamma che sacco buo dio